10 smartphone con la migliore fotocamera da acquistare nel Black Friday 2019 Per semplificare la scelta di uno smartphone con la migliore fotocamera possibile, in base alla cifra che si è disposti a spendere, può tornare utile la sottostante selezione di 10 smartphone che nello imminente Black Friday potrebbero avere anche validi sconti. 10. Il più economico Xiaomi Mi Redmi Note 7 Blue 6.3, 64GB, 4GB Dual SIM 118,87€ 9. Con un ottimo software Motorola One Vision Dual SIM, 128GB, 48MP, Android 9PE, Display Cinema Vision FHD+, 6.3, Bronzo, Bronze 284,58€ 8. Il punto di riferimento per la fascia media Google Pixel 3 a 64GB Smartphone Android 9.0, Mono SIM, 64GB memoria, non espandabili, bianco, bianco, clearly white 389,03€ 7. Quasi come il suo fratello maggiore Samsung Galaxy S10 e display 5.8, 128GB espandibili, RAM 6GB, batteria 3100mAh, 4G, Dual SIM Smartphone 480€ 6. Maestria cinese Huawei P30 15,5cm, 6.1, 6GB, 128GB, Dual SIM ibrida, 4G nero, 3650mAh, 437€, 5, il più equilibrato Samsung Galaxy S10 display 6.1, 128GB espandibili, RAM 8GB, batteria 3400mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 609,90€ 4. Foto professionali e durata batteria Huawei P30 Pro 16,4cm, 6.47, 8GB, 128GB, Dual SIM ibrida, 4G nero, 4200mAh, 617€, 3, di certo una delle migliori Samsung Galaxy Note 10 Dual SIM 256GB, 8GB, RAM SMN970F, DS Aura nero 730€ e 28 centesimi 2. Il punto di riferimento Apple iPhone 11, 128GB, bianco 863€ 1. Hardware e software da podio Google Pixel 4 XL 16 cm, 6.3, 6GB, 64GB, nero, 3700mAh, Pixel 4 XL, 16cm, 6.3, 1440x3040px, 6GB, 64GB, 16. 976,12€ Altri fattori li decidi tu, magari colore e simpatia Nella sottostante descrizione è presente il collegamento alla pagina web per approfondimenti ed eventuali acquisti Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale A presto. Grazie per la visione. Ciao